Io sono Patrizia, abito qui a Orciano, terre roveresche e sono pensionata e il mio hobby di accudire l'orto, il giardino e così. Questa nostra casa è in vendita da 15 anni e più e niente, non siamo mai riusciti ad avere questa vendita. Se andiamo a vedere in questi borghi, paesi, dove parlando anche con persone, poi ho sentito parlare di questa agenzia del signor Gambedotti, mi sono attivata per chiamare e parlare di questa vendita. Siamo stati seguiti molto bene, non è stato necessario del nostro intervento perché è l'agenzia, è il signor Gambedotti che ha provveduto a tutto quello che ci voleva per mettere in vendita. È stata un'esperienza grandiosa. Nell'arco di tre mesi il signor Gambedotti ha portato tanti clienti e poi ecco che nel giro di tre mesi c'è stata questa vendita. È arrivato un acquirente ed abbiamo risolto questo problema che ci sembrava un abisso. promuovere al massimo dei voti, ottimo e di più, vivamente lo consiglio a chi mi chiede o anche parlando io sono vivamente lo consiglio. È stata un'ottima agenzia ed è stata una sorpresa, si può dire, che non si vende niente. È stata una bella sorpresa questa. Grazie a tutti.